Nel primo giorno in cui cessa lo stato di emergenza in tutta Italia, i contagi in città e in provincia diminuiscono. Sono 241 i pazienti positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, dei quali 64 a Caltanisset e 61 a Gela. E intanto invece aumentano, anche se di poco i ricoveri in malattie infettive da 40 passano. Nell'arco di pochi giorni, a 44, chiuso il reparto di terapia intensiva, mentre in quarantena domiciliare sono 4349 i pazienti positivi che non hanno bisogno di ricovero ospedaliero. Sono 1075 i positivi in quarantena domiciliare a Caltanisset, 10 sono ricoverati in malattie infettive, 2 sono ricoverati in altro presidio. Sono 1450 i positivi in quarantena domiciliare a Gela e 18 i ricoverati in malattie infettive, un paziente ricoverato in altro presidio.